Lo spettacolo è bellissimo ma anche un po' desolante. Tutto questo ben di Dio, dono della natura e opportunità preziosa per l'economia territoriale, fermo, immobile. Le serrande abbassate sembrano occhi chiusi per un riposo forse anche meritato ma piuttosto prematuro secondo tanti che anche oggi, mercoledì dopo Pasqua, in montagna ci sono saliti con entusiasmo e voglia di neve. Tanto più che nella prima parte della stagione si era fatta attendere a lungo per poi arrivare copiosa e improvvisa a primavera. Insomma, che la domanda ci sia a noi sembra evidente. È l'offerta che invece latita. Perché? Costa troppo, dicono, mantenere gli impianti in funzione per pochi frequentatori. Altri però replicano, sì ma è il servizio? Io mi stavo chiedendo, la gente non è salita perché sa che gli impianti sono chiusi o gli impianti sono chiusi perché la gente non è salita. Ma forse non sono saliti perché gli impianti sono chiusi. Bisogna sfruttarla di più questa neve di primavera? Ma guarda la stagione invernale è stata breve però intensa. Ultimamente a marzo ormai la neve è la mezzagiornata che funziona, poi la neve non è buona più per sciare, non ci sta più fino alle tre, le quattro. Fino a mezzogiorno, l'una, ci si può anche fare se no niente. E però è chiuso. Le chiedo, questa stagione breve ma intensa ha consentito un po' di recuperare quell'inizio incerto? Beh sì, ha consentito di recuperare meno male, meno male che se no era proprio un problema forte. Siamo venuti per fare sci alpinismo, alla fine siamo gli unici pochi che diciamo ci godiamo un pochettino questa neve di aprile. Sì, ho visto questa mattina che alcune persone venivano per cercare gli impianti aperti però giustamente era tutto chiuso, magari si potrebbe abbattere un pochettino meglio le piste, sicuramente qualche giorno in più si poteva tenere. La neve giustamente non è ottima proprio per il caldo, è un po' più papposa o altro, però per noi sci alpinisti alla fine noi ci andiamo sempre a cercare la neve migliore, quindi giornata ottima, splendida. Adesso il turismo sta andando alla grande, io personalmente questo inverno ho visto parecchie gente dalla Svizzera, dalla Germania o altro che vengono proprio qui sulla Maiella, proprio per la neve, per la quantità di neve ma soprattutto perché si presta molto allo sci alpinismo molto turistico, cioè nel senso non è che ha grossi pendii, grosse difficoltà però si presta molto al fatto del paesaggio, al fatto delle pendenze e della neve buona, quindi sicuramente possiamo vivere di turismo un po' più a lungo qua. Io sono veneto ma sono, dico adottato, sono 30 anni che sono qui in Abruzzo, quindi amo l'Abruzzo in tutte le sue forme, lago, montagna, mare, ma bisogna fare qualcosa in più. Mi emoziono tantissimo perché è un vero peccato vedere questa montagna funzionare solo in determinati momenti, sì ci saranno le spese per loro, ma oggi giorno, oggi, oggi, avere gli impianti aperti disponibili, poi da come mi dicono i ristoranti chiusi, ho visto stamattina gente salire che con abbonamenti volevano sciare, non hanno potuto sciare, mi sembra una cosa un po' assurda, comunque ognuno ha le sue idee, quindi mi dispiace tanto. Qua stamattina abbiamo visto dei gruppi stranieri che sono venuti e vedere gli impianti chiusi qua giù sono, nel senso non mi sembra una cosa buona per me poi.